Agostino Ballone è stato riconfermato, presidente della FIAVET Abruzzo e Molise, la federazione che associa le agenzie di viaggio e i tour operator. La direzione che abbiamo preso come federazione FIAVET è una direzione giusta, che è quella di rilanciare il ruolo degli agenti di viaggio e dei tour operator nella nostra regione. Il turismo è in crisi o piano piano ci sono prospettive di rilancio? Il turismo è in crisi come tutti gli altri comparti economici naturalmente, però è un settore che può avere margini di crescita notevoli. Per fare questo bisogna intensificare notevolmente l'attività di ricezione dei flussi turistici internazionali in particolare. Abbiamo spazi enormi da recuperare, soprattutto verso l'est Europa, verso i paesi cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, India, Cina. Quindi questo è uno degli obiettivi che si prefigge la FIAT per i prossimi mesi e anni. Altre prospettive? Altre prospettive è quella di potenziare notevolmente l'incoming verso la nostra regione. FIAVET, Abruzzo e Molise ha il privilegio di annoverare fra i propri iscritti i maggiori tour operatori di questa regione. Altro aspetto importante che riguarda più le agenzie di viaggio dettaglianti è la lotta all'abusivismo. è un qualcosa che danneggia non tanto le agenzie di viaggio, quanto il paese intero, perché si sottraggono risorse, si sottraggono fatturati, quindi evasione fiscale, quindi mancanza di tutele verso il cliente. Per cui questo è un ruolo che deve essere riconquistato e quindi valorizzato.